Siamo sul set dell'operazione che abbiamo fatto per questo progetto della confezione LP e abbiamo creato sul nostro set la possibilità di comunicare quello che è la moda secondo le intenzioni di questa azienda. Il fotografo è Piero Principi, ce l'abbiamo con noi e lui ha una particolarità, è notissimo soprattutto nel mondo del jazz nel fotografare. Mi piaceva questa idea sua di improvvisare, quindi riesce a rompere gli equilibri. Tu come riesci a fotografare la moda che viene da altri generi? Il jazz ha una passione, però la fotografia è una professione. Quindi come nel jazz l'improvvisazione nasce dalla grande conoscenza dell'armonia, anche in fotografia la creatività nasce dalla grande conoscenza della luce, dell'ottica. Quindi quando qualcuno mi dice che sono un artista non sono così d'accordo, perché è molto più importante essere un tecnico che è in grado di tenere sotto controllo tutte le situazioni professionali. Poi con la creatività si fa la differenza, questo è vero, però è un lavoro secondo me molto più tecnico e professionale rispetto alla creatività come generalmente viene percepita dal grande pubblico. Ecco, però qui parliamo di emozioni. Prima l'abbiamo fatto anche per un gioco di parole, per quello che riguarda la nostra ragazza, la nostra testimonia, Lulù. Diciamo, al di là della fotografia però si cerca di fotografare qualcos'altro nell'abbigliamento e anche nella personalità della persona che c'è di fronte. Sì, sono d'accordo, anche perché al di là dell'aspetto puramente tecnico legato alla luce che serve a dare dettaglio al tessuto, però nella fotografia di ritratto una cosa fondamentale è l'approccio psicologico con la persona. Ecco che da qui nascono queste emozioni. Quindi mettere un po' più agio la persona, far sì che il sorriso sia un sorriso spontaneo, non un sorriso finto o professionale. Quindi è un lavoro sia tecnico che emozionale. Quindi diciamo che il clima che abbiamo creato qui per questa operazione, per questo progetto, speriamo che riusciamo a far capire anche il prodotto finale per cui abbiamo operato e per cui abbiamo deciso di creare questa situazione, di realizzare questo sogno. Grazie Piero Principi. Prego. Fotografo.